Un pizzico di amarezza in casa Martina dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia di Serie D, giunte ai rigori contro la Fidelisandra di Farina. I biancazzurri nella sfida del Torsi sono stati costretti a modificare subito le carte in tavola per cause di forza maggiore. L'infortunio dell'estremo difensore Ander Pirro ha costretto Pizzulli ad operare un doppio cambio dopo pochissimi istanti di gioco. Pirro è un ragazzo Ander che noi vogliamo vedere, vogliamo anche capire, vogliamo permettergli anche di dare, finora non abbiamo fatto nessuna gara ufficiale a livello, abbiamo fatto delle amichevoli rispetto all'Ander che magari aveva già giocato domenica scorsa, quindi era la prima gara ufficiale con una squadra che giocava con quattro Ander, quindi era veramente l'ideale per poter anche tastare il ragazzo. E' chiaro, tutti sanno, anche l'Ander gioca con l'Ander in porta, c'ha i quattro e c'ha poi tre Ander in mezzo, quindi riesce a giocare con una difesa con tre over e un reparto che può trarre giovamento. Io speravo di sfruttare Maffei, Pinto e davanti Ancora e Palermo magari successivamente, purtroppo dopo che c'è stato questo cambio ho dovuto innitibilmente dare più equilibrio alla squadra e purtroppo ho dovuto rinunciare a Maffei, uno tra Maffei e Pinto doveva dar posto, quindi lasciare, ed è un peccato perché potevamo incidere di più. Nonostante le difficoltà che si sono presentate durante l'incontro, il tecnico dei Martinesi sottolinea l'atteggiamento della sua squadra, in grado di saper reagire ai momenti di sofferenza. La squadra ha tenuto il campo, è stata una bella partita contro una squadra forte, formata da calciatori di spessore, nessuno lo mette in dubbio, però sono contento, dispiaciuto per l'eliminazione e ci concentriamo. Sono contento perché anche questa partita ha dato dimostrazione che la squadra, da praticamente non abbiamo preso mai gol in queste ultime tre partite tra amichevoli e Coppa Italia, quindi su questo dobbiamo lavorare, cercare di incidere di più davanti, essere un attimino più tranquilli nella gestione della palla e provare a creare ancora di più perché abbiamo la possibilità di far bene, dobbiamo dare il tempo anche ai nuovi di inserirsi, nonostante siamo partiti sicuramente in un tempo giusto dal 27 luglio, il tempo passa e quindi anche i nuovi pian piano prendono confidenza con quella che è la squadra. Adesso attenzioni proiettate al mercato, ma non solo, si cercherà il sostituto di Nicolli che ha subito la rottura del crociato e sul campo ci si concentrerà per preparare l'esordio in campionato contro il Manfredonia, in programma domenica prossima al Tursi.